Nelle prossime ore i cieli rimarranno nuvolosi in gran parte del centro-sud con nuove nevicate lungo l'Appennino Marchigiano. Inoltre vi segnalo qualche pioggia tra Calabria e Sicilia, i fenomeni più intensi si verificheranno in Sardegna. Situazione decisamente più tranquilla invece al nord. Temperature che oggi caleranno anche al sud e sulle isole, mentre al nord non si supereranno i 5-6 gradi. Poi per la giornata di domani le piogge interesseranno per lo più il sud e la Sicilia, situazione che invece migliorerà in Sardegna.